Ti lodo o Padre per il tempo buono che oggi tu mi doni, ti ringrazio per il tempo della quaresima, tempo di gioioso ritorno a te, tempo di allenamento per rendere il mio cuore disponibile a te, manda o Signore il tuo spirito, vieni Spirito Santo perché il mio cuore non si indurisca ma possa ascoltare con disponibilità la tua parola. Dall'angelo di Matteo capitolo 6, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti delle sinagoge nelle strade per essere lodati dalla gente, in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa, invece mentre tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra perché la tua lemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoge e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa, invece quando tu preghi entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa, invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Siamo invitati dunque oggi dal Vangelo a praticare la giustizia. La parola giustizia nel Vangelo indica il cammino che scandisce la volontà di ritornare al Signore attraverso delle opere concrete. La tradizione ne elenca tre e cioè il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Per quanto riguarda il digiuno la Chiesa dice questo nella sua legge. La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino o alla sera. E la legge dell'astinenza proibisce l'uso della carne, come pure di cibi e bevande che sono particolarmente ricercati e costosi. E la preghiera ci invita oggi a partecipare per quanto è possibile alla messa e alla distribuzione delle ceneri. E la carità, l'elemosina, ci impegna a metter via dei soldi. Pensiamo che già domenica prossima saremo invitati a raccogliere dei soldi per le vittime della guerra in Medio Oriente. E poi in tutte le diocesi, nella diocesi di Venezia si fa la famosa raccolta il pane per amor di Dio. Sono dei segni. Ognuno poi deve concretizzare quali tempi di preghiera, quale penitenza particolare fare, quale l'elemosina. cristiana. Queste sono le opere di giustizia che siamo invitati a compiere durante il cammino della qualesina per allenare lo spirito, per renderlo disponibile a desiderare e a chiedere lo Spirito Santo per fare la volontà del Padre, sempre, in tutte le scelte. E per arrivare a Pasqua contenti di rinnovare la nostra adesione alla fede cristiana ricevuta nel battesimo e per rinvocare sempre lo spirito che ci renda cristiani nuovi. Ecco, questa è l'indicazione, praticare le opere della giustizia. Però subito il Vangelo all'inito della quaresima ci educa, ed è bello quello che ci dice. State attenti. Ogni opera buona, ogni opera che può essere fatta per il bene ha un pericolo, può nascondere dentro se stessa una radice velenosa, e cioè quella di compiere il bene ma per ottenerne un vantaggio personale, che è detto essere ammirati dagli uomini, cioè fare il bene per ricevere una ricompensa umana. Quanto è pericolosa la nostra vita e quanto è pericoloso nella nostra vita il dipendere dal giudizio degli altri, aspettare di essere valutati dagli altri. Ecco il pericolo che oggi la parola di Dio mette davanti ai nostri occhi e vuole liberarci. Per questo può aiutarci il grande testo di San Paolo, della Lettera ai Corinti, quando parla dell'amore, della carità. Ci esorta avere un amore paziente, benigno, che cerca il bene, che è sempre pronto al perdono, sui tratti positivi, ma nel parlare della carità San Paolo mette in luce anche il pericolo. Dice addirittura con esempi estremi, uno potrebbe dare tutte le sue ricchezze per i poveri, ma non farlo per carità, per amore. Uno potrebbe dare addirittura la sua vita, morire martire, dunque non solo la penitenza, un sacrificio, ma il sacrificio della sua stessa vita, eppure è chiaro che un esempio estremo potrebbe dare la sua vita non per carità, per amore. Ecco dove oggi il Signore ci invita a fare una verifica, muovetevi, compite opere di giustizia, di amore, ma verificate, verificate che cosa muove la vostra azione. Siete dipendenti dal giudizio degli altri o tutto fate per amore e cercate l'amore, la gloria del Padre, come ha fatto Gesù che in tutto non cercava la fama, è stato tentato dalla fama, dal plauso della gente, ma cercava l'amore per il Padre. Ecco la parola che ritorna continuamente nel Vangelo, oltre che opere di giustizia, l'altra parola che ritorna fatelo nel segreto, nel segreto, non perché poi sia proibito la preghiera comunitaria, ma è decisiva anche l'azione fatta nel segreto, senza che occhi ti vedano, perché lì riconosci di agire e di fare davanti agli occhi del Padre. Questa indicazione è molto importante perché è liberante, quante volte uno soffre per il giudizio degli altri, impariamo anche in questa Quaresima a liberarci dal giudizio degli altri e appoggiare la nostra azione sull'amore, sull'amore per il Padre che ti ricompensa. Allora senti che veramente c'è una ricompensa che non è legata al plauso, all'ammirazione, ma al legame di amore con il Padre, questo libera la tua vita. Che il Signore ci aiuti a partire con l'entusiasmo in questa Quaresima, ci aiuti a essere concreti anche nelle opere di giustizia, non ha indicazione precisa quella del digiuno, dell'elemosina, della preghiera, ma soprattutto ci aiuti ad alimentare il fuoco dell'amore. Lo Spirito Santo accenda in noi il fuoco dell'amore che nel segreto del cuore mantenga vivo il rapporto con il Padre e ci liberi da ogni giudizio degli altri. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata e buona Quaresima.